A livello di infrastrutture questo territorio è fermo a 50-60 anni fa, cioè quando è stata fatta l'autostrada è stato fatto il primo pezzo di Viale Casma, per cui secondo me le priorità sono il prolungamento di Viale Casma e per quanto riguarda il collegamento con l'autostrada riterrei forse più utile, meno costoso, sicuramente più baricentrico per questo territorio la soluzione proposta dal sindaco di Chiavari riguardante il collegamento con il rio Campodonico. Diciamo che il progetto del tunnel della Fontana Buona è già più avanzato, però le due cose non possono escludersi una con l'altra. Sì, ma penso che è anche molto più costoso e mi sembra un po' un'utopia. Onestamente punterei più al prolungamento di Viale Casma, che anche qua c'è un addizionale al pedaggio che pagano gli utenti che percorrono l'A12, che sarebbe anche curioso sapere dove sono finiti queste risorse e credo che la soluzione del collegamento con il rio Campodonico permetterebbe in tempi più rapidi di dare una soluzione alternativa e migliorare il collegamento con il nostro introterra. Tornando alla frana della 225 è stato ripristinato un senso unico alternato, anche sul comune di Mezzanico esiste una situazione di viabilità simile in località Borgonovo. A che punto siamo? La situazione è analoga, nel senso che anche lì c'è stata una discesa dal versante di materiale littoide che era imbrigliato da reti e è stato fatto lo sgombero, però la viabilità è un senso unico alternato. Adesso aspettiamo che intervengano i rocciatori dell'ANAS per ripristinare le reti paramassi e riaprire la strada nei due sensi di marcia. Che tempi vi hanno dato su questo? Su questo non ci è andato nessun tempo, so che la Polizia Municipale ha sentito il responsabile di zona che dovrebbero nei prossimi settimani arrivare ai rocciatori per iniziare la messa in sicurezza del versante.